la 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 mascherina nella mucchina nella farina niente si trova restiamo a casa in sta quarantena e ne usciremo tutte balene ragazzi ragazzi scusate ma che sono sti cori non siamo le lollipop a Sanremo beh, arriva da Beyonce mo qua beh, credo che ci sia un'unica soluzione che ognuna canti la sua quarantena da solista eh, mi sa che c'ha ragione All You Can It qua la darò la darò dopo mesi da Claudia la darò la darò anche a Pedro il vendirò chiusa qui cargo e Netflix come il vis-à-vis progetto una fuga a bordo del mio tir il mondo è mio nei ponti di aprile viaggerò Alassio mi attende già la casa al mar che dolce evasione dentro me dentro me dentro me Sala cadula arriva la pula se provi a scappare tu rinchiusa in casa devi stare tu bidi decreto for you e se coi bimbi vuoi andare al parco sai Giuseppe ti ha detto che non si può far a casa Levi's star ma un giorno anch'io se si potrà ritornerà all'ido di Astia in riva al mar calippo e biretta con baby gay e in cuffia che canterà che canterà che canterà che canterà Grazie a tutti